Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo Una serata di festival con musical da Broadway ed il meglio del blues e del jazz americano dedicata al tema della diversità, dell'inclusione e della pace. Tutto questo è stato il concerto Classic Jazz e Broadway Concert, una produzione originale di Spazio Seme in anteprima nazionale palcoscenico d'eccezione dell'evento La Fortezza Medicea di Arezzo. Questa opportunità di incontro legata poi al tema dei diritti umani e al 4 di luglio che è il giorno dell'indipendenza non solo americana ma che sia un'indipendenza per tutti. Proprio in occasione dell'indipendence day americano l'assemble composto da musicisti, classici e jazzisti ha accompagnato la voce di Gianni Bruschi e di 20 giovani cantanti selezionati dalla France University. Sono molto preparati. La cosa bella è che il musical americano che nasce negli Stati Uniti all'inizio del Novecento con Gershwin si ispira all'opera italiana e così è nato il musical come spettacolo musicale che racconta una storia e presenta appunto una storia con delle narrazioni e con dei canti. Però questi ragazzi effettivamente hanno una formazione operistica quindi sono preparati, che si stanno preparando per l'opera e per rappresentare anche due opere italiane, una opera di Mozart e una opera di Umberto Giordano a fine di questo mese. E quindi diciamo questa commistione tra il bel canto e l'opera italiana e il musical dà veramente un sapore perfetto per il musical.